L'iter per la messa in sicurezza del Rio Rezza procede a ritmo spedito. Venerdì 19 dicembre saranno consegnati i lavori alla ditta. Il cantiere aprirà ai primi di gennaio 2015. È stato diviso in due lotti. Un primo lotto funzionale, che era quello che poi interessava per mettere in sicurezza il pronto soccorso, era di 1,7 milioni, mentre la seconda tranche di 2,5 milioni, che sono stati compartecipati un po' da noi, dall'ASL e dalla Regione. Per fortuna nostra il progetto era stato già commissionato da parte dell'amministrazione precedente, quindi il vantaggio di avere il finanziamento adesso è perché c'era già pronto il progetto. Il primo lotto riguarda l'area di via Barattina, all'altezza del ponte dell'autostrada. Con degli accordi bonari sono stati acquisiti i terreni necessari per realizzare l'opera. Lì verrà realizzata un bacino di laminazione, vale a dire uno sbaramento in terreno naturale, che ha il compito di trattenere la massa d'acqua duecentennale per poi rilasciarla in base alla portata di quella che è il rivo attualmente. Questo serve per mettere in sicurezza quale area? In pratica con questo primo lotto noi mettiamo in sicurezza tutta l'area dell'ospedale. Il progetto si capisce bene dallo stralcio, dal disegno. Questa è la diga di sbarramento per contenere l'acqua del rio. L'acqua andrà ad allagare tutta questa piana, che si vede qui nel disegno, a poco a poco, e quindi l'immagine dall'alto sarà quella di un grande lago vuoto. E qui c'è questo sistema che rilascerà tutta quest'acqua nel rio. Come impatto ambientale questa opera come sarà? A mio parere è praticamente nullo, nel senso che tutto lo sbaramento, la diga, di fatto, come l'abbiamo chiamata, è in terreno naturale e il terreno sotto resta i prati che ci sono adesso, i campi che ci sono adesso, di fatto. Terminato il primo lotto, si spera prima di metà anno, si passerà al secondo, ossia la messa in sicurezza del tratto terminale. Sottostrada sarà ricavato uno spazio maggiore per il rio Rezza, che potrà così scorrere sino a Lentella senza uscire dagli argini.